buongiorno a tutti io sono lorenzo luporinde l'ufficio stampa lo sacco sociale ed è un piacere darvi il benvenuto a questo incontro noi siamo qua per presentare il disco di checco come ormai saprete lo stacco sociale ha fatto un ep per ogni componente della band e ogni venerdì esce un nuovo album quindi questa settimana parliamo di checco appunto è un piacere tornare anche così digitalmente l'università per confermare quello che gli impegnano sempre della band nel mondo reale per avere a che fare con le cose che riguardano tutti quindi è un po questo l'intento e il senso del nostro incontro giusto le informazioni di servizio l'incontro sarà suddiviso in due parti una prima moderata dal professor bonini associato in strategia della comunicazione la seconda con le domande fatte da voi direttamente io ho già prevenuto alcune domizioni arrivate alcune domande quindi partirò da lì però poi appunto sarà possibile fare domande direttamente ai ragazzi l'ultima cosa che vi chiederei è di mutarvi e di lasciare il video acceso in modo da consentire lo svolgimento dell'incontro grazie mille passo la parola al professor bonini buongiorno a tutti sono molto contento e onorato di moderare questo incontro quello che faremo in questi 20 minuti è a nostra disposizione sarà più un percorso intorno alla band e poi al disco di Checco e vorrei però visto che siamo dentro l'università e abbiamo di fronte studenti che non sono soltanto fan dello stato sociale o ascoltatori ma anche insomma soprattutto giovani che attraversano un periodo particolare la loro vita provare a contestualizzare un po' il gruppo e la loro musica e la musica che fate che avete fatto in questi dieci anni dentro questo contesto e ho veramente un paio di domande prima di arrivare a parlare di questo disco di questa inizia di questa strana cosa del fare cinque dischi ognuno individualmente no in iniziativa di cui parleremo tra poco però un paio di domande prima di arrivare a parlare di quello sul sul percorso che avete fatto come come band e prima di tutto qual è stato il vostro rapporto con con una città come bologna e con tutto il mondo universitario che circola intorno a bologna si può dire che lo stato sociale sono un prodotto della cultura universitaria bolognese che nascono da un contesto particolare che abbastanza unico in italia insieme sicuramente bologna è più grande di siena con città universitaria ma sono città universitarie dove gli studenti hanno un peso e hanno una loro cultura e caratterizzano molto la città comincio io o vuole innanzitutto ciao a tutti sono checco ciao tiziano e vabbè io per parlare proprio delle origini della band forse sono il meno indicato in quanto sono arrivato due due anni dopo dalla vera nascita del collettivo la cosa che sicuramente comunque ci accomuna in quanto esseri umani prima che membri di una band è il fatto di vivere la città e i suoi spazi in un determinato modo ecco per me la politica l'attività politica è sempre rimasta comunque più o meno localizzata laddove la vita universitaria per quanto mi riguarda la vita da studente ha sempre rappresentato uno dei primi esperimenti di comunità e del vivere in comunità ecco quindi la politica è sempre rappresentato quello di occuparmi degli spazi per vivere insieme e per fare cultura e vivere alla socialità di base quindi occupare spazi per liberare idee per liberare opportunità e per fare delle cose in generale e con i ragazzi dopo il 2010 diciamo quando abbiamo ricominciato a frequentarci dopo le scuole superiori e negli anni universitari comunque il modo di vederci era quello di costruire opportunità attraverso gli spazi abbiamo aperto uno spazio studentesco poi in primo luogo alberto e lodo anzi due alberti e lodo con uno spazio che si chiamava il panenca che era un luogo dove appunto ci si ritrovava per fare assemblee discutere di vita di studenti e politica e fare anche il cineforum abbiamo fatto spettacoli teatrali abbiamo fatto dei concerti abbiamo fatto nascere un po' un movimento insomma che si è occupato della nostra generazione e del nostro modo di vedere in quel momento la città e l'opportunità che ci dava anche sotto forma di spazio e di tempo da vivere insieme ecco questo è un po' la base dello stato sociale cioè lo spendere tempo insieme per sopravvivere no? rinchiudersi in un'estate affosa in una cantina in un gabbiotto che chiamavamo rifugio con un po' di birra nel frigo per sconfiggere la noia e sconfiggere il caldo e sconfiggere anche forse le poche opportunità che in quel momento le istituzioni di Bologna ci davano non c'era molto da fare se non negli spazi occupati ecco e dalle realtà che stavano nascendo appunto sembrava essere un po' l'unico modo per inserirsi all'interno del tessuto sociale della città poi se volete aggiungere qualcosa altro voi ragazzi aggiungo una ciao a tutti intanto buongiorno a tutte e tutti no volevo specificare proprio che il nome stesso della band in realtà viene da un contesto universitario perché lo stato sociale era presente in una delle prime canzoni che abbiamo scritto ed era presente proprio perché io in quel momento stavo studiando per un esame di economia pubblica a sociologia a scienze politiche a Bologna e quindi avevo sempre nella testa questa cosa dello stato sociale perché ce ne sono di diverso tipo a seconda di dove vivi e quindi lo stato sociale mi permeava il cervello ed è diventato il nome della band allo stesso modo molti dei primi testi almeno per quanto mi riguarda la mia siamo quelli che ho fornito io all'interno del collettivo venivano non solo dalle mie letture universitarie ma anche dai miei momenti di noia durante le lezioni universitarie cioè invece che seguire quello che diceva il prof io scrivevo in testi però poi finivano le parole del prof finivano esattamente dentro la canzone ad esempio in cromosomi il valutatore deve comunicare al valutato la valutazione è esattamente una frase che ha detto la professoressa di management e io ho scritto nel foglio e poi è diventato un verso della canzone se poi se facciamo una specie di analisi random dei testi non soltanto dei testi anche soltanto dei titoli delle vostre canzoni forse siete il gruppo contemporaneo che cita di più il novecento dei corpi intermedi e della sinistra e dei grandi partiti di massa socialismo tropicale, welfare pop, il movimento è fermo, turisti della democrazia che è una citazione ormai archeologica perché si riferisce a una frase che disse Silvio Berlusconi nel 2003 quindi stiamo parlando di quasi di vent'anni fa però c'è sempre un riferimento più o meno leggero inserito in un contesto pop alla vostra connotazione politica forse veramente non sono tanti i gruppi che oggi hanno così tanti riferimenti a partire dal titolo siete più un gruppo del novecento, ho letto che vi definite antinostalgici però come lo praticate e come lo definite questa relazione costante almeno con un vocabolario e una terminologia ben precisa? come siete di sinistra? ciao a tutti e tutti guarda è un clash, è un problema ed è una non risposta nel senso che comunque siamo centrifughe di noi stessi siamo nati e cresciuti con la cultura della televisione anche se molti poi dicevano io non la guardo mai ma alla fine tutti sapevano tutto e in cui insomma abbiamo imparato a dissacrare e a non vivere la santità di quasi niente insomma sia dal punto di vista politico perché comunque ci siamo formati in un'epoca in cui quello che ci dicevano che sembrava una figata si era fermato al 1989 alla Bolognina e così come poi tutta una serie di accelerazioni dal punto di vista del prodotto culturale italiano in realtà ci hanno investito in pieno ecco noi siamo noi stessi secondo me figli del cambio di marcia sul digitale siamo arrivati sulla scena durante 2010-2012 che era un po' al momento in cui sono emersi dal punto di vista del grande utilizzo i social network le prime piattaforme di distribuzione digitale forti ce ne erano anche prima erano diciamo così marginali e non centrali da questo punto di vista siamo una band che ha a che fare in maniera molto stretta con l'idea di cultura pop non abbiamo paura di utilizzarla però comunque siamo gente che ha delle fondamenta solide è difficile rubare a casa del ladro se non sei più bravo del ladro no? quindi a un certo momento ci siamo messi lì di buona lena e abbiamo provato a prendere le cose che ci piacevano e nel frattempo senza mai smettere di imparare a trattarle poi sull'essere di sinistra o meno ognuno ha un po' il suo trip e la sua visione e la sua corrente però contrariamente a quello che succede nella sinistra negli ultimi trent'anni siamo correnti che non si sciolgono anzi che vanno avanti compatte il più possibile ecco siete andati avanti compatti ma avete fatto cinque dischi diversi vi siete temporaneamente riconfigurati in questo modo qui vorrei chiedervi qualcosa tu prima menzionavi il cambiamento digitale, la trasformazione dell'industria musicale vi siete trovati un po' a cavallo di quell'epoca è strano no? che una band oggi faccia uscire cinque dischi in un momento storico in cui la musica si ascolta per canzoni inserite in playlist che è svincolate da album l'ascolto vincolato a un album sta quasi scomparendo perché forse molti quelli della mia generazione forse ancora ascoltano l'album ma i dati ci dicono che la maggioranza delle persone oggi sotto i trent'anni non ascolta album ma ascolta canzoni dentro playlist come mai avete fatto questo disco con questo disco questa idea come viene fuori questi dati cinque dischi e in particolare cosa oggi parliamo del disco di Checco cosa ha di diverso dagli altri? beh sicuramente sì il mercato discografico è cambiato radicalmente negli ultimi 15 anni diciamo tuttavia noi arriviamo da un mondo in cui chi cantava e chi suonava erano sostanzialmente band noi siamo affezionati a quel tipo di estetica, di costruzione ecco ci viene sempre un po' difficile andare verso l'individualismo e il personalismo sfrenato come adesso i social media vogliono sostanzialmente dove in Instagram alla fine si concentra ad esempio molto di più l'individuo piuttosto che la collettività ecco questo esperimento nasce un po' da delle esigenze figlie del tempo perché anche noi siamo esseri umani e siamo calati nel contesto in cui si vive tutti quindi è evidente che alcuni di noi in qualche modo avevano la necessità di esplorare in maniera più articolata e senza il filtro del compromesso del collettivo le poetiche e le estetiche individuali e personali dall'altro lato però sull'altro piano c'è sempre la voglia di comporre un qualcosa che non sia la somma di tutti e cinque ma qualcosa di più grande e complesso ecco andare a dimostrare la complessità della la complessità della convivenza e della collettività perché il collettivo non è solo un gruppo di persone una massa di persone che cooperano per uno scopo comune ma è un insieme di individui ben formati e ben chiari che cooperano a uno scopo che non è una semplice somma ma è un qualcosa di più complesso ecco l'idea stava proprio sul fatto di andare contro tendenza quindi al posto di giocare un gioco in verticale fatto sull'accumulo e la canalizzazione di ascolti e di click fatta sulla singolarità ad esempio di un brano, di un singolo andare a giocare sull'allargamento della base andare a esplorare tutti gli angoli e tutta la superficie che il collettivo effettivamente ha questa cosa perché siamo abituati a parlare in questo linguaggio non riusciamo a chiudere la complessità di quello che siamo in un singolo per l'estate facciamo fatica e troviamo anche che il confronto il confronto dei numeri e tutte le metriche che si basano su quel tipo di crescita anzi di indice di crescita siano un po' svilenti per il tipo di storia e di umanità complessa che c'è dietro ecco quindi abbiamo forse un po' ingenuamente sicuramente c'è una componente di inconsapevolezza i discografici dicono che abbiamo fatto un'operazione tipo kamikaze però ci interessava riuscire a tirare fuori questo tipo di racconto perché pensiamo alla fine che che nonostante tutto poi rimarrà la nostra storia i nostri brani e non i numeri che abbiamo fatto su una piattaforma digitale una multinazionale o che è la storia che emirà ecco è molto bella questa cosa che dici ma è anche bello la differenziazione la diversità che c'è tra tutti e cinque i dischi come li sono ascoltati non sono né un critico musicale né un disco grafico però quando ho sentito il tuo disco che come a me ricordava forse per la mia età anagrafica e per quello che ho ascoltato ricordava molto dei suoni un po' anni 90 anche se c'è un po' anche un po' di ritorno in questo momento di questa moda dei suoni delle chitarre di questo suono un po' sporco c'era qualcosa di off-lug a disco pax che forse perché siete c'è questa aura di Bologna dire di emilianità del rock che subito si riconduce anche a loro e mi era piaciuto molto però volevo sapere da te cosa c'è in questo disco perché perché l'hai fatto cosa cosa hai scritto come l'hai scritto com'è nato non è facile passare dal progetto alla realizzazione facciamo cinque disco ok pronti via ci avrete messo i vostri tempi avrete avuto le vostre differenze sì allora per quanto riguarda le sonorità ci hai preso in pieno nel senso che che molto fa riferimento al mio contesto culturale di partenza che era un po' quello del rock anni 90 ecco quindi molte derivazioni sonore arrivano da lì per quanto riguarda le tematiche io ci tengo sempre a dire che il mio disco come quello di tutti quanti è un disco dello stato sociale in particolare credo che il mio sia quello più più imbastardito oserei dire nel senso che dentro non c'è assolutamente solo farina del mio sacco ma anzi il disco è stato costruito negli anni perché non è un disco di scrittura recente anzi ci sono dei brani che addirittura hanno tre anni forse dei brani che ho scritto in collaborazione ad esempio con Alberto c'è un brano che si chiama Perso che arriva da un testo originale di Bebo Vivere è un provino che a me piaceva moltissimo forse lui no non lo so perché ma non è mai stato realizzato prima di oggi e gli ho chiesto ho detto Lodo ma è bellissimo questo brano ma lo posso fare lo posso rendere mio e così siamo andati avanti ecco i testi i testi che aprono e chiudono il disco invece quelli di Barca e Luce sono sono lavori più recenti e più o meno risalgono al periodo di di chiusura forzata del lockdown ecco quando ero più più incline sostanzialmente a guardarmi l'ombelico e a capire che cosa stava succedendo intorno a me e dentro di me in generale la tematica il filo conduttore che corre dal primo al quinto brano è una sorta di di insofferenza per la vita quotidiana ma non inteso come non so la quotidianità contadina ma la vita quotidiana in questo mondo accelerato dove tutto in qualche modo genera ansia tutto genera aspettativa c'è una paura folle di di rimanere fuori da dal meccanismo del capitale del mercato c'è anche lo stesso instagram ti pone come come una sorta di oggetto di vendita o comunque come un agente all'interno all'interno di un mercato delle personalità c'è molta angoscia ad esempio nell'apparire nel rimanere insomma sempre belli e in forma io stesso ho detto che ho a un certo punto ho avuto paura di invecchiare quando ho preso la decisione che sarei che sarei diventato un papà ho detto adesso che cosa mai mi succederà ecco il filo conduttore è un po' quello è un po' quel tipo di di disagio di scogliono che corre in queste vite dove sembra che si debba solo andare a lavorare e produrre e consumare e mai fermarsi perché altrimenti chissà che cosa succede no? Invece ad esempio da quando è nata la bimba il brano si chiama Barca ho in qualche modo assaporato il primo il primo indizio di salvataggio è passata proprio una barca che mi ha tirato su ha detto adesso stai fermo stai un attimo qua rifletti e pensa a quello che devi fare in relazione a quello che ti sta succedendo cioè devi crescere un altro essere umano non sei più il tuo centro dell'universo no? e quindi ho cominciato a sentire l'esigenza in qualche modo di decrescere in maniera felice cioè di di levarmi dal da una sorta di vita in costante turbinio e di cominciare a guardare anche altri aspetti importanti della vita e queste riflessioni poi guarda caso sono arrivate proprio nel momento in cui tutto si è fermato fuori e uno arrivando da una lunga corsa con un grande fiatone all'improvviso fermi dici beh e adesso che cosa è successo adesso che cosa facciamo ecco quindi forse la risposta non era nel saper correre più forte degli altri ma saper correre insieme agli altri al ritmo tu insieme agli altri grazie io ho un'ultima domanda ma me la tengo per più avanti riguarda un po' tutti tutti voi forse possiamo passare in questa seconda parte dell'incontro passare la palla agli studenti se hanno domande se ne sono 250 connessi nemmeno non abbiamo mai questo pubblico in qualsiasi lezione online ci vogliono di stato sociale per far esplodere le audience quindi se ci sono domande lascio la parola intanto sì sono contento che lo share di zoom sia incrementato con la presenza dei ragazzi tornerò da lei professore per la chiusura allora io in realtà ho domande che sono già pervenute e partirei da alcuni nominativi che ho già per rompere il ghiaccio perché c'è una certa timidezza quindi vi chiederei se sei collegata Anna D'Angelo in ordine saranno Anna D'Angelo Giuseppe Castellucci Marina Bastiani Alice Fusai Alessandra Infrate Iafrate perdonami e poi passiamo all'apertura totale quindi Anna sei con noi sei collegata ok sì ci sono mi vedete buonasera a tutti ciao allora io volevo fare una domanda un po' più generale per vedere più o meno come avete vissuto voi questa pandemia sia a livello di gruppo comunque musicale e sia a livello personale che cosa ha intruito in voi soprattutto anche il lancio di questi cinque dischi che come avete già detto e ha detto anche il professore è una scelta assolutamente insolita quindi volevo sapere un po' come avete vissuto anche voi la pandemia beh ciao ciao ragazzi che begli orecchini che hai stai da dio ma sono due testine degli spazzolini gli spazzolini elettrici no ah ok allora no ti volevo dire questa cosa io penso che non mi ricordo più cos'è la domanda no adesso la pandemia carota come l'hai vissuta era una cosa facile d'altronde scusate sono un po' rincoglionito ecco cosa ha fatto la pandemia mi ha rincoglionito sicuramente sicuramente allora io partirei prima da un dal lato personale perché è più interessante e poi arriverei a quello della band no sinceramente il mio psicologo mi ha detto il mio psicologo dal quale sono andato un sacco di tempo ma prima di andare in lockdown cioè dopo non avevo più bisogno io sono stato una di quelle persone fortunate che è andato allo psicologo prima perché poi quando ho richiamato allo psicologo gli ho detto guarda sei fortunatissimo perché adesso ti posso no ho raggiunto un livello di clientela che non ha idea non avrei mai più trovato il suo tempo quindi ero diciamo abbastanza rilassato e tranquillo durante la pandemia e in più per fortuna diciamo non avendo nessun caso drastico e fastidioso in casa ho potuto approfittare di fare cose che non avrei mai pensato di fare cioè sono tornate i miei 16 anni diciamo che le prime due settimane ho scritto ho fatto insomma ho lavorato molto a questo EP però dopo rega gli stimoli cioè fine dopo un po' non è che non so che ecco come se si è riuscito ad andare avanti durante la quarantena a scrivere io un sacco di gente che ho chiamato amici che suonano musicisti ma mica ha fatto niente di artistico ma come facevi a fare delle robe artistiche in quel momento in cui cos'è il futuro esattamente bah torneremo a suonare bah quindi due settimane ho scritto tutto quello che avevo già scritto precedentemente l'ho chiuso e poi mi sono dedicato alla cura di me stessa e stai meglio? mi vedi? non trovi? stai da dio stai da dio è evidente vabbè dal punto di vista invece della band la figata è che non suonavamo insieme da una vita abbiamo deciso rega facciamo qualsiasi cosa pur di uscire di qua siamo andati a fare tamponati prima e dopo delle prove in cui abbiamo scritto e messo diciamo giù un po' di canzoni che non andranno nelle più non ci sono sono nuove perché noi siamo prolifici noi lavoriamo per voi ragazzi e ragazze e quindi questa è la mia esperienza sto da dio però ti prego adesso abbassa quella pistola ok vabbè direi che sono piuttosto esauriente Carrot quindi passerei a Giuseppe Castellucci scusate rega potevo fare più in fretta no no invece è stato un bellissimo intervento assolutamente grazie Lorenz non era facile riassumere un anno in così poco tempo Carrot comunque sei stato bravo potrei riassumerlo anche così guarda non lo vedo bene però sono contento che tu lo stia facendo Giuseppe se sei con noi salve c'è questo impasse grazie ciao innanzitutto piccolo inciso lodo complimenti per il film l'ho visto è un bel film complimenti grazie molto la domanda è più per tutti e cinque riguardo ovviamente Sanremo voi siete qualche anno fa andate a Sanremo e avete quasi sbancato perché comunque la canzone è andata avanti anche per molto e quindi io volevo chiedervi se andare a Sanremo e poi anche tornarci è stato un sogno che sia vero oppure è una di quelle tante esperienze eccitanti o solo una tappa della vita di un cantante di una band è un incubo ma tornare a Sanremo ma Sanremo è una di quelle cose tipo il morbillo la rosolia no? cioè tu l'hai fatto e basta no? nel nostro caso l'abbiamo fatto triunfalmente quindi avremmo dovuto fermarci lì come come dei novelli platini ma ma ci siamo accorti di una cosa che da Sanremo in avanti un po' anche per colpa di scelte mie che sono scelte che mi hanno anche reso felice ma hanno un loro peso diciamo la percezione della band era molto sbilanciata sulla mia figura molto più rispetto alla realtà delle cose semplicemente la cosa era spiacevole perché non è la verità tutto qua e quindi forse ci siamo detti siccome siccome hanno piacere che torniamo magari ci torniamo in un'altra veste con Io che non canto e raccontando sempre un passettino alla volta che siamo cinque non non uno più quattro va bene perfetto grazie quindi spoiler ce ne saranno altri tre di Sanremo bisogna farne uno a testa in modo democratico Marina sei con noi? sì ciao buonasera ciao ciao la mia domanda è un po' più specifica ed è relativa a una canzone che per me significa molto e che mi ha sempre fatto molto emozionare Linea 30 è una canzone che è dedicata alla strage di Bologna come sapete no? valevo chiedervi a tutti cosa ha significato per voi da bolognesi la strage alla stazione di Bologna inizio io e ma sai cosa significa significa principalmente un racconto perché siamo tutti nati dopo e già questo comunque ha a che fare con la trasmissione della memoria e e poi è cioè come dire un avvenimento fatale all'interno della vita di una di una comunità e di una città c'è un prima c'è un dopo evidentemente e questo vuol dire tantissime cose vuol dire soprattutto capire come mai si è si è dovuti arrivare ad un prima ad un dopo poteva andare tutto tranquillamente in maniera più lineare e invece ne abbiamo dovuti ammazzare un'ottantina e perché perché non lo sappiamo ancora di preciso sarebbe bello un giorno scoprirlo e quindi il valore estrinseco della della strage di Bologna per il momento dal punto di vista pratico è la ricerca di una verità il valore invece personale che ognuno gli dà ovviamente dipende da come sei fatto e da cosa ci vuoi guardare dentro per me è uno dei tanti motivi per cui vale la pena pensare che le cose siano migliorabili e aggiustabili cioè quella è la banalità del male più vicina a me che potessi vedere o vivere escludendo le stragi del Mediterraneo che tutti i giorni fortunatamente non tutti i giorni ma insomma che in maniera più recente ci accompagnano o quello che sta succedendo non più al di là del friuli Venezia Giulia quindi bisogna sempre stare un po' attenti sono dei moniti ecco per quello che mi riguarda la strage di Bologna è un monito se non puoi essere sicuro a casa tua probabilmente il nemico non è uno che arriva dall'Africa dal Sud America dall'Asia dal Nord Europa o dalla banca centrale europea potrebbe arrivare anche dalle stesse istituzioni questo ovviamente è una cosa che mette in crisi il modello di vita però è anche un modo per ricordarti che bisogna fare sempre un po' meglio e non incattivirsi ma guarda nella seconda metà del Novecento ci sono stati due anni due momenti in Occidente nei quali si è pensato che un mondo diverso fosse possibile con una certa chiarezza gli anni sono il 68 che conoscono tutti e che è una cosa che ha a che fare con altre città del mondo e il 77 che non tutti sanno che ma è stato un anno fondamentale per la città di Bologna che in quel momento era la vera capitale mondiale dell'arte della musica della controcultura di una certa politica al di fuori dei partiti e di un certo sentimento se così vuoi rivoluzionario e quella generazione mia mamma era del 57 quindi aveva proprio 20 anni il 77 quella generazione era convinta che avrebbero cambiato il mondo e questa cosa non era possibile non era possibile perché le pressioni all'interno del mondo diviso in due blocchi erano molto forti l'Italia era un paese strategicamente fondamentale da una parte perché era l'ultimo paese grande dell'occidente prima di andare a guardare a est e dall'altra perché aveva il partito comunista che niente a che fare col movimento del 77 se non come antagonista ma aveva il partito comunista più grande d'Europa e non si poteva all'interno di queste dinamiche che poi sono complicatissime ed è una storia affascinante nella sua violenza non si poteva in qualche maniera fare in modo che una qualche rivoluzione avvenisse in Italia fosse essa una rivoluzione data da movimento fosse essa una semplicemente un partito comunista al governo e quello è stato il momento in cui si è rotta la possibilità di vivere in un mondo diverso e noi che siamo nati a metà degli anni 80 siamo cresciuti con l'idea precisa che il posto dove siamo nati sarà il posto dove moriremo il sistema dato è quello che ci accompagnerà per tutta la vita fino al 1980 a Bologna questa cosa non era così e quando si parla di dittature sanguinarie nel mondo ce ne sono tante che impongono il loro potere con cose macroevidenti con esempi macroevidenti di violenza di prigionia di repressione eccetera è tutto è tutto vero è tutto vero però noi dobbiamo ricordarci che qui nell'occidente del progresso del libero mercato della ricchezza portata di tutti soprattutto se sei ricco prima eccetera 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 esistono queste cose e non sono dichiarate ma ma poi a un certo punto quando le tensioni sociali sono espresse a tal punto da far vacillare il sistema dato poi poi esplode una stazione muoiono 84 persone e questa è una cosa che secondo me ci dobbiamo ricordare io passerei ad Alice prima volevo fare un'informazione di servizio noi dopo abbiamo ancora due domande di Alice Fusai e di Alessandra Iafrate e poi aprerei alle domande di tutti se volete scriverle nella chat poi vi chiederemo di leggerle chiaramente abbiamo un'estrizione di tempo abbiamo un'ora quindi insomma proveremo a essere rapidi nel fare domande nel rispondere per riuscire a rispondere a più domande possibili quindi Alice Fusai stai presente? Sì eccomi ciao a tutti ciao ragazzi e volevo fare una domanda collegata un po' alla nostra situazione attuale avete ribadito anche in questo incontro l'importanza degli spazi e soprattutto del vivere gli spazi no? e pensavo al fatto che adesso sta avendo un po' più di risonanza grazie per esempio alla campagna dell'ultimo concerto ovvero del fatto che è praticamente un anno che tutte le sale concerto sono vuote e questo ovviamente intacca sia la vita dei musicisti ma anche di figure secondarie che molto spesso neanche magari si sa che lavorano e vi volevo chiedere appunto quanto musicisti anche con una certa risonanza secondo voi c'è un modo per poter cambiare questa situazione oppure pensate che sia una cosa che deve essere legata a altre sfere diciamo guarda ti rispondo più rapidamente possibile visto che è un anno che tra una cosa e quell'altra me ne occupo in prima persona anche si è svelato il grande segreto che ci vuole una gran pazienza nel parlare con le istituzioni questo è un problema è una voragine normativa che si può risolvere solo all'interno di un processo istituzionale siamo abituati a vedere le istituzioni i processi istituzionali come una volta ogni tanto essere chiamati alle elezioni grazie di vederci poi diventa opinionismo da televisione in questo caso purtroppo e per fortuna anche ci insegna che questo mondo dello spettacolo che è un mondo del lavoro e dei mestieri ha bisogno di una rappresentanza sindacale o parasindacale che si deve relazionare con le istituzioni quindi non possiamo semplicemente fare un gesto di rottura ha fatto un flash mob ha detto urlato molto forte abbiamo ottenuto qualcosa generalmente la democrazia non funziona così nel 2020 proprio meno che mai la verità è che è una battaglia politica ed è una battaglia politica con tutti annessi e connessi che vuol dire riconoscere delle subalternità riconoscere delle disparità riconoscere il fatto che comunque qualsiasi tipo di lotta almeno per quello che mi riguarda non può essere espressa se non attraverso alcuni chiavi di lettura che sia una chiave di lettura di lotta di classe e riconoscimento appunto dei privilegi di alcuni davanti alla mancanza di diritti di altri va va preso per quello che è cioè in un'inestricabile complessità e si potrà tornare a una normalità nel momento in cui solo quando solo le istituzioni cederanno o decideranno che è di nuovo possibile programmare il futuro io sono un fanatico delle piazze ma non sono un fan dell'urlare senza un supporto ideologico cioè lo spontaneismo non ideologico produce mostri e il mondo dello spettacolo se ne deve ben guardare da questa da questa cosa che comunque è succosa sarebbe bellissimo strapparsi le vesti urlare come dei matti e fare Barbara D'Urso dall'occasione non è possibile farlo c'è un c'è in ballo troppo per perdere la faccia e l'unico modo è pazientare vedere come va fuori perché là fuori è una catastrofe e comunque bisogna relazionarci siccome tale perciò quello che posso dire io è che mi auguro che il mondo dello spettacolo da qui a pochi mesi possa riprendere compatto e unito e non essere più guardato come come poi viene guardato non solo questo mondo cioè lavoratori non indispensabili lavoratori piccoli non rappresentati fagocitati da un sistema che ha interesse solo nelle grandi economie benissimo chiuderei con l'ultima domanda che era già arrivata con Alessandra Iaffrate forse ho sfruttato quattro volte il cognome perdonami niente io volevo chiedere una cosa nel brano sono libero si parla di come l'unica grande crisi è stare al mondo e penso che bene o male oggi ce ne rendiamo tutti conto ma per voi com'è possibile superare questa crisi? facendo lo stato sociale l'abbiamo chiusa così? non abbiamo un'altra cioè è paradigmatico nel senso l'unica crisi è stare al mondo è un momento di grave solitudine che non avrei mai voluto scrivere nella mia vita l'unica soluzione è stare insieme per me così era già più bello è un discorso di filosofia da qualche decennio di vita io credo se vogliessi semplificare io lo direi così però ovviamente siamo in cinque insomma è una domanda che ha a che fare col senso della vita quindi parlo per me ma sì vabbè io amo anche immaginare un po' i modi in cui la gente insomma sopravvive e cerca di riuscire a ritagliarsi un posto nel mondo no? a me sembra sempre più evidente che tutti in questo momento vogliono fare tutto tutti vogliono essere tutto si può proprio tranquillamente fare però ci dovrebbe essere una una certa capacità di riconoscersi e riconoscere anche il tipo di relazione che hai tu con il mondo cioè chi vuoi essere cosa sei portato a fare cosa vuoi fare e questo tipo di consapevolezza è una è una consapevolezza che arriva arriva solo sbagliando e fallendo più e più volte e come una scultura insomma alla fine sottrai e rimane alla fine quello che per te è indispensabile ecco la capacità di di stare al mondo è anche è anche capire come come occupare il tuo spazio in maniera intelligente senza andare a occupare spazi degli altri o semplicemente andarti a prendere cose che per diritto del cosmo non 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 ti appartengono forse no è un modo è un modo di riconoscersi è un modo di riconoscere la gente che c'è intorno è l'unico modo di sconfiggere appunto come diceva Bebo è stare insieme è parlare con gli altri è trovare delle relazioni con gli altri modi di essere utili e di costruire anche le vite degli altri insieme alla tua così così mi sembra completa passerei alle tre domande scusa Lodo no 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 mi è venuta in mente una cosa perché avete detto crisi a me è arrivato un formicolio fortissimo al piede adesso sta passando quindi state tranquilli però questa cosa rivela la necessità di ascoltarsi io credo che uno dei temi critici sia pensare nella vita che il corpo e la mente o se sei molto religioso l'anima siano cose separate quindi quando sei in un posto fisicamente ci devi stare anche con la testa quando sei in un posto con la testa ci devi stare anche fisicamente l'idea che ci siano alcune pulsioni che siano sbagliate e punibili perché solo fisiche alcune pulsioni elette e mirabolanti perché solo intellettuali è un'idea che spacca metà le persone e molto spesso si finisce per accettare delle vite in cui non ci si trova o con la testa o col corpo si fa un lavoro che ti obbliga a viaggiare con la mente altrove oppure 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 scegli delle cose che però che però non parlano i tuoi sensi ecco riuscire a tenere la testa e il corpo legati e ricordarsi che sono una cosa sola l'uno l'espressione dell'altro un po' salva la vita che meraviglia Lodo non ti aspettavi così maestro Zen all'improvviso vero proprio sei cambiato sei cambiato ci sono arrivate quattro domande nella chat e io chiuderei con queste quattro per poi tornare al professore purtroppo non ho i cognomi in chat mi è uscito fuori un Pro un Martina un Clara Civitelli e Guendalina Guidarelli quindi voi se siete chiederei a Pro di partire con una domanda su Rino Gaetano e la seconda sulla pandemia e l'arte quindi identificati Pro non gli funziona il microfono scrive ah non gli funziona il microfono allora ve la leggo io scusate quale ruolo ha giocato qualora l'avessi giocato il mondo politico musicale di Rino Gaetano un ruolo abbastanza importante diciamo che è stato fin da subito uno dei primi riferimenti nella nostra nella nostra scrittura nel nostro modo di approcciarci alla musica nella me lo ricordo perché nel MySpace nello stato sociale nel 2009 tra le influenze c'era scrittorino Gaetano e i Daft Punk diciamo che in mezzo a queste due cose c'era quello che volevamo fare all'inizio e quindi sì Rino è stato un faro diciamo così perché il tipo di approccio che aveva alle parole alla musica e l'attitudine che aveva nei confronti dello spettacolo e delle canzoni è una cosa che abbiamo cercato di fare nostra poi ovviamente non ci siamo riusciti però insomma ci cerca di seguire degli esempi grandi poi se non ce la fai comunque almeno ce l'hai provato Passerei alla domanda di Martina sulla piazza della mia città il film di Paolo Santamaria Martina tu sei presente con un microfono funzionante? Allora sì ci sono mi sentite? Sì Ok quindi come dicevo la piazza della mia città è sotto interrogatorio Sì effettivamente la piazza della mia città è l'ultimo film che ho visto al cinema prima che li chiudessero io l'ho letto in modo tale che voi eravate la colonna sonora di questo racconto invece come è stato presentato l'ho visto più come se voi foste i protagonisti non lo so questa cosa riuscite a spiegarmela e come è stato poi vederlo? ve lo aspettavate così? Io non l'ho mai visto davvero mi vergogno non voglio vedere che cosa faccio io mi fido di quello che mi dico in mente l'hai visto più di tutti l'hai visto l'hai riguardato riguardato mi vergogno troppo troppo non mi riguardo anche Paddy Jones si vergognava a riguardarsi quindi ho preso questa cosa da lei ora sei andato a giocarti tutto il casino come Paddy Jones esatto comunque la verità è che noi in generale non ce l'aspettavo cioè nel senso nel senso a noi è affatto strano che l'abbiano fatto questo film di base no veramente una cosa così encomiastica nei tuoi confronti succede solo quando sei già morto e quindi quindi c'è un po' sorpreso sì e ovviamente l'operazione che fa è metterci metterci all'interno di una storia molto più grande di noi però noi non siamo le persone giuste per sapere se ce lo meritiamo ok passerei a Gwendalina se sei collegata e microfonata sì ci sono prego ok ciao ciao volevo chiedere durante il secondo lockdown sono state fatte diverse differenzazioni tra chi potesse rimanere aperta al pubblico chi no e anche nel mondo della musica alla fine è stata così cioè se in estate per esempio erano aperte le discoteche adesso si sta organizzando Sanremo 2021 che cosa ne pensate voi di queste enormi differenze che ci sono state beh sono due cose molto diverse la riapertura delle discoteche e i live dell'estate scorsa rispetto a questo momento qua quindi non sono assolutamente paragonabili parlandoti della questione Sanremo 2021 cosa ne pensiamo sia là che ci dobbiamo andare sarebbe bello che diventasse un'occasione per tutto il mondo dello spettacolo dal lato produzione dal lato artisti dal lato di tutti tutto il mondo dello spettacolo universale come un grande laboratorio che dimostrasse che sì è possibile fare i tamponi prima sì è possibile scrivere dei protocolli sanitari per mettere in piedi una grande macchina produttiva della cultura italiana e invece no e quindi come al solito si magnifica l'idea che questo è una cosa obbistica e quando non è obbistica va bene se hai un capitale da investire all'interno di una di una produzione gigantesca creando delle differenze facendo il gioco contrario al al favore del dei lavoratori cioè riuscire a dare un'idea di compattezza un'idea di futuribilità a un'idea a un generale di rinnovamento anche del del mondo lavorativo va bene cioè va bene così nel senso che come dicevo prima insomma bisogna stare dentro il processo con l'occhio vigile sulle istituzioni se fanno Sanremo senza pubblico e i teatri rimangono chiusi cos'è successo? abbiamo fatto tanto rumore per niente non è cambiato nulla sarebbe stata una presa in giro mettere dentro 400 persone e due settimane dopo o un mese dopo continuare a vedere i teatri chiusi quello si avrebbe fatto molto strano quindi è un è un pareggio in cui perdono tutti un classico pareggio all'italiano comunque il sistema si autodifende no? perché questa la domanda è molto interessante perché rivela una questione che noi in questo momento siamo siamo molto vedi scomodiamola questa parola capitalismo il capitalismo ha questa capacità incredibile di venderti tutto come dire i suoi prodotti e la sua indignazione la sua presenza costante nella tua vita e la tua voglia di lamentarti del capitalismo stesso facendo vincere sempre i più ricchi quindi una cosa che succede in questo periodo storico è che noi siamo molto molto attenti a un sacco di discriminazioni la discriminazione di razza di sesso di orientamento sessuale eccetera eccetera e sono tutte discriminazioni che esistono nel mondo ma non si parla mai di una discriminazione più evidente che però viene rimossa cioè quella di classe cioè che ci sono quelli che hanno più soldi e quelli che hanno meno soldi e quelli che hanno più soldi espostano più soldi hanno più grossi interessi economici e in qualche maniera non chiudono e quelli che hanno meno soldi chiudono questa è una discriminazione da ricordarsi grazie mille io purtroppo devo chiudere la domanda del pubblico chiuderei con un'ultima domanda di Rita Maria D'Agostino che è su Combat Pop mi sembrava un buon un buon punto di chiusura per poi tornare al professore Rita sei con noi? sei su Radio Sad? stati a distanza? eccoti qui ci sono mi sentite? sì niente ho visto ho sempre seguito e mi chiedevo come mai come è nato appunto il titolo di Combat Pop se è nato diciamo direttamente per partecipare al festival di Sanremo oppure se è nato da qualche esigenza diciamo in particolare non so guarda il titolo non è nato per Sanremo e non è nato a posteriori anzi è nato prima il titolo della canzone in questo caso perché le prime le prime parole che ho scritto di quella canzone sono state il titolo ho detto adesso voglio costruire qualcosa che metta insieme l'attitudine pop e quindi popolare e quindi un'ambizione di arrivare a più persone possibili con un'attitudine di lotta di conflitto quindi Combat mettere insieme un tentativo di approfondire i ragionamenti e approfondire le dinamiche di conflitto anche sociale di cui stavamo parlando di cui stavamo parlando prima attraverso qualcosa di popolare che arriva a tante persone quindi diciamo così un interrogativo che il mondo della cultura si pone da quando esiste probabilmente che si non è che si risolve ma si riduce in una contrapposizione in un qualcosa che pare essere contraddittorio l'attitudine inclusiva e popolare con con allo stesso tempo la logica del conflitto quindi era una una cosa ambiziosa che nasce da quella parola lì e poi dopo il testo è venuto in seguito la canzone è venuta in seguito e ovviamente ha fatto tutt'altro rispetto alle intenzioni originali benissimo io tornerei al professor Bonini per chiudere l'incontro volevo solo cogliere la palla al balzo per ringraziare intanto chiuderete voi l'incontro ma voglio ringraziare anche a nome nostro Università di Siena per la disponibilità e per insomma anche il coraggio di mettere in campo cose nuove in un periodo complesso per la didattica insomma siamo felici di essere qua professore passo a lei la palla per chiudere al volo in realtà la domanda che avevo prima è poi stata chiesta più volte dagli studenti avrà a che fare un po' con il lavoro culturale ai tempi della pandemia ma per rimanere su questo tema visto che avete insistito molto sulle questioni di politica di conflitto di differenti diseguaglianze sociali che in qualche modo si rientrano sempre nei vostri discorsi se foste nominati dal nuovo governo domani consulenti del ministro del prossimo ministro per la cultura del ministro della cultura cosa fareste cinque provvedimenti cinque idee che vorreste vedere per uscire fuori da questa crisi avete parlato di stato sociale non so stato sociale per gli artisti come in Francia avete idea di cosa si potrebbe fare per dare un consiglio al prossimo ministro della cultura beh intanto spererei che non ci chiamassero a fare questa cosa perché mi metterei le mani nei capelli subito e scapperei urlando però hai citato la Francia che non è il modello più migliore in assoluto ma è comunque meglio rispetto a qua in realtà la cosa che proverei a fare con il ministro della cultura è assicurare a tutti gli artisti la possibilità di vivere dignitosamente a prescindere dal loro successo commerciale quindi fornire un reddito un reddito che è di base incondizionato questo succede per gli artisti ma succede anche per per chi non riesce a trovare il lavoro che vuole fare quindi è più una cosa che ha a che fare con il welfare che con la cultura però risolve il problema anche della cultura io invece è un percorso che vorrei che questo paese intraprendesse come dire entrando un attimo più sul pragmatico rispetto al mio solito sogno che dentro al ministero per beni, arti, cultura e turismo si crei un dipartimento di musica e cultura contemporanea e popolare che manca perché noi ci relazioniamo con le stesse persone che curano non so l'Arapacis o il Colosseo siamo proprio due entità diverse due lavoratori diversi due economie diverse insomma e fa scappare da ridere che non esista un dipartimento che si occupi appunto di cultura e arte popolare contemporanea nel 2021 perché è un settore produttivo come gli altri dignitosamente come gli altri con delle peculiarità che non ha nessun altro la cultura quindi sarebbe proprio il caso di avere qualcuno che responsabilmente si facesse carico di queste decine di migliaia di lavoratori e quindi sì io come se potessi sognare sognare è una cosa del genere insomma una cosa veramente molto poco romantica mi rendo conto è tipo portare fuori la fidanzata al Burger King per la prima volta quando ci esci però poi insomma se hai dei contenuti va bene anche il Burger King grazie mi sembrano tutte cose non così idealistiche e molto concrete e molto condivisibili se non ci sono altre domande al volo o questioni lo chiudiamo qua questo incontro e ringrazio molto l'università lo stato sociale i loro staff eccetera e gli studenti che hanno partecipato io ho soltanto fatto da moderatore un po' così stimolatore del dibattito grazie a tutti non so se è previsto che chiuda qualcun altro se ci salutiamo qua grazie noi ringraziamo lei professore e insomma eravamo stati da Siena l'ultima volta nel 2018 in Piazza del Campo ricordavamo prima e questo è un modo per tornarci sperando che presto torni a suonare in contesti con quello là di fine tour qualche anno fa quindi niente grazie ancora a lei professore buona giornata a tutti ciao ragazzi ciao ragazzo ciao a tutti ciao 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 me li ascolto tutti ciao Ciao! 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 Ciao!